E' un risultato più che straordinario. In soli quattro mesi 25.700 passeggeri hanno usufruito della coppia di frecce rosse che da Milano arrivano a Tarando, passando per Metapondo, Ferrandina e Potenza Centrale. La Regione Basilicata ha saputo ancora una volta guardare oltre con un investimento importante che mira a potenziare i collegamenti e ad uscire dall'isolamento. Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico, Mario Polese, commentando i dati sull'utilizzo del nuovo servizio ferroviario. Per Polese l'impegno è di continuare in questa direzione per connettere sempre meglio la Basilicata al resto d'Italia e dell'Europa. La restrizione delle risorse pubbliche rende più faticoso questo cammino, ma noi abbiamo il dovere di tutelare il nostro territorio, garantendo l'accesso a tutti i Lucani e alle grandi reti infrastrutturali del Paese, anche in vista dell'appuntamento del 2019 con Matera, capitale europea della cultura. Nell'era di Internet, conclude Polese, non ci si può dimenticare delle importanze della mobilità, garanzia di conoscenze nuove, opportunità e ricchezza.